Sì, elegante, ma un po' sfregiudicato per me. Ci abbinerei dei mocassini, diciamo. Un giallo irrisolto. Strane ste mutande. È come se mancasse qualcosa. Io sono 48, ma di larghezza però. Sulle cravate siete messi male, mi spiace. Non mi trova irresistibile. Bello, ma io ho il cavallo basso. All'ultimo grido. No, qualcosa di più anfibio. E il mondo sta cambiando? Relax! Grazie a tutti.